Buongiorno a tutti, è la conferenza stampa di Beyond the Wall, il nostro film in competizione. Vi presento subito gli ospiti al tavolo, che sono il produttore Ali Jaliban, il direttore di fotografia Abid Sobani, gli interpreti Diana Abibi e Navid Mohamed Zadini. Regista Vahid Jalilvan. Io vorrei cominciare con una domanda per il regista, vorrei chiedergli da quale riflessione è nata questa storia, dall'esigenza di raccontare che cosa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Il senso non è così chiaro, si è formata l'idea sul nostro subconscio, l'idea di un concetto no, non c'è nel nostro mondo moderno ma l'anello mancante è l'amore. E per trovare questo anello mancante abbiamo bisogno di sacrificio, abbiamo bisogno di dignità e questa è la nostra prima necessità. Lui non fa eccezione a questa regola, questo è il riassunto, il centro dell'idea, se avete bisogno di ulteriori dettagli è a vostra disposizione. Se ci sono delle domande alzate bene la mano, nelle note di produzione lei parlava anche dell'importanza della speranza, soprattutto per chi è stato colpito da sfortuna ma anche da vittima della crudeltà degli uomini. Ci può parlare di questo aspetto che le interessava analizzare nel film? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Credo che la speranza che in questo mondo la speranza si formi nelle nostre menti e questo non soltanto in Iran ma nel resto del mondo, nei vari paesi. Alla mattina quando ci svegliamo sui social media, nella strada, tutto si allea per farci perdere la speranza e farci soffrire. Se l'umanità non è in grado di mantenere viva questa speranza nel proprio cuore e nella propria mente, sarà persa. E in questo film abbiamo questo avanti e indietro tra la realtà e la fantasia e questo è proprio basato su questa guerra per mantenere la speranza. Farò la domanda sia in persiano che in inglese. Grazie a tutti. 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 destino dell'altro regista, Panoi, che è stato arrestato, ma chiamo voi i miei fratelli, chiamo i miei fratelli, gli ufficiali di sicurezza. Abbiamo nel film due agenti di sicurezza, uno che faceva il suo lavoro, l'altro che risponde alla propria coscienza. Chi risponde alla propria coscienza non fa soltanto quello che deve fare, si guarda dentro, nell'animo, nel cuore, e in queste riprese dicevo a quegli ufficiali di sicurezza che non si impegnino soltanto al proprio dovere, ma che si guardino dentro e facciano quello che devono fare. Vediamo tutto sempre da un punto di vista politico, ma non esiste bianco o nero, c'è sempre lo yin e lo yang, serve un dialogo dopo un ravvicinamento, ci sono i miei fratelli di sicurezza. meno violenza, e questo è quello che credo. Continuerò a credere e a esserne convinto anche se vivessi in Europa, negli Stati Uniti. Una domanda per Diana e Navid, vorrei sapere come, cosa hanno provato, cosa hanno pensato quando hanno letto la sceneggiatura e come hanno costruito i rispettivi personaggi e che tipo di conversazioni ci sono state con il regista allo scopo di creare e modellare questi personaggi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ho lavorato in un negozio che vendeva panini, ho venduto le case della gente, non potevo essere in contatto con la mia famiglia, ho dovuto trovare amici di quella classe sociale. Vahid aveva già pensato a tutto questo, aveva ben definito il personaggio di Leila, ma mi diceva lo devi trovare anche tu questo personaggio, devi stare come lei, devi avere i suoi vestiti, le sue scarpe, il suo profumo. Un altro punto importante era che mi diceva devi trovare tuo figlio, ho dovuto trovare io il bambino che avrebbe fatto il ruolo di mio figlio nel film, è stato un procedimento lungo. Quindi mi sono sentita come se la mia vita fosse stata totalmente sconvolta, all'inizio difficilissima, poi un po' alla volta ho incominciato a conoscere il mio personaggio, ho cominciato a accettarlo, non ho visto la mia famiglia per tanto tempo. Ricordo che mia sorella mi ha visto due mesi dopo e non mi ha quasi riconosciuto per quanto ero cambiata. Come l'ho fatto? Tutto con l'aiuto e guida del mio professore Vahid. È stato lui ad aiutarmi a sviluppare il personaggio. Il produttore sostiene che per questo film Diana ha vissuto per otto mesi come Leila e altri sei mesi a cercare di ritornare a se stessa, a ritornare a Diana. All'inizio diceva a tutti, non riconosco più la mia famiglia, non posso collegarmi con loro, sono stata con loro ma non ho più il collegamento che avevo prima. È stato quindi per sei mesi, è servita una psicoterapia e grazie a Dio è riuscita a ritornare a se stessa. E si erano davvero spaventati che non potesse tornare a chi era prima. Questo per spiegarvi la severità del procedimento. Il tempo a nostra disposizione è finito. Vi ringrazio. Thank you very much. You have to stop here. Grazie. 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 Grazie per voi. Grazie.